Due avvisi di garanzia inviati ad altrettanti sanitari dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi dal pubblico ministero Giulia Maggiore per la morte della giovane nigeriana andata in arresto cardiaco durante il travaglio per la nascita della figlia. Si tratta di un atto dovuto anche in vista dell'autopsia fissata per il prossimo venerdì e che sarà eseguita dall'equip di medicina legale dell'università di Pisa coordinata dal professor Marco Di Paolo. I destinatari potranno infatti così incaricare un proprio consulente che assisterà all'esame otoptico sulla Salma. La tragedia si era consumata nella notte tra sabato e domenica. La giovane, da tempo residente a Montevarchi con il marito e già madre di due figli, si era recata all'ospedale della Gruccia per richiedere assistenza per l'imminente parto. Durante il travaglio però si era sentita male ed era stata accolta da un arresto cardiaco. I sanitari erano riusciti a far nascere la bimba con un taglio cesario d'urgenza. La piccola era stata poi trasferita al policlinico delle scotte dove adesso si trova ricoverata in buone condizioni di salute. Inutili invece i disperati tentativi di rianimare la donna che è deceduta nella notte. I carabinieri subito dopo la tragedia avevano sequestrato la cartella clinica della giovane. La procura aveva aperto un'inchiesta sulla morte della donna. L'ipotesi di reato sulla quale il PM sta lavorando è quella di omicidio colposo.